Il mondo degli scout e il loro legame con la nascita della protezione civile in Italia sono i protagonisti di una mostra allestita alla biblioteca Frinzi dell'Università di Verona che sarà visitabile fino all'11 maggio. L'esposizione prende spunto da un'ampia raccolta di materiale pubblicata nel libro Gli Scout nell'emergenza del giornalista Enrico Giardini. Questa mostra che è originata da un libro Gli Scout nell'emergenza Verona e la nascita della protezione civile in Italia racconta appunto le origini della protezione civile questo servizio che partì negli anni 60 da un'intesa dal Ministero dell'Interno con i Vigili del Fuoco e le Prefetture e le associazioni Scout. Gli Scout rappresentano la forza dei giovani ma anche i valori civili della società. Ecco, perché una mostra qui in questo contesto? La mostra che ricordiamolo è del centro studi sul metodo Scout Luigi Brentegani che è anche l'editore del libro. Ci è stata chiesta dalla biblioteca universitaria Frinzi ed è un'opportunità di far conoscere questa attività, questo lavoro che spesso è stato un lavoro nascosto ma molto importante per la società civile farla conoscere ai giovani affinché magari possano appassionarsi conoscendo la storia a questo tipo di impegno civile. Gli Scatti mostrano una parte importante della storia di Verona e di un volontariato ricco di entusiasmo, di valori e soprattutto attento al bene comune. Gli Scout raccontano come è nata la protezione civile cioè le esercitazioni nelle casame dei Vigili del Fuoco ma anche i primi interventi che furono fatti per esempio nel Polesine nel 1951 per l'alluvione, poi per il Vaillont, poi nella Gordino nel Bellunese a Cencennighe nel 1966 l'anno in cui ci fu anche l'esondazione dell'Arno a Firenze e ci furono degli angeli del fango anche veronesi che andarono a aiutare le popolazioni colpite. Negli anni si vede anche questa compartecipazione per il bene comune da parte della società civile e della Chiesa insieme. Certamente, va ricordato che la protezione civile è nata all'interno dello scautismo ma poi si è evoluta coinvolgendo appunto il mondo ecclesiale, altri gruppi, altre associazioni come per esempio dagli anni Ottanta gli Alpini ma anche i Vigili Urbani e poi ha coinvolto le istituzioni, i comuni, le regioni, le province, ovviamente lo Stato. Quindi la protezione civile è un vero gioco di squadra, è un'energia sempre attiva che però dietro ha un grande lavoro di preparazione.